Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa stupenda maglia del Manchester United. Questa è la terza per la stagione in corso, quella appena incominciata, in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia è molto bella, l'avevamo già vista in versione fan, la trovate qui in alto la recensione, l'ho ripresa in versione Player perché mi piace tanto. Mi piace soprattutto il simbolo del Manchester United, veramente strepitoso. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso, decidete voi cosa fare, ma secondo me è un'occasione imperdibile. Vi ricordo che per ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere quali splendide offerte il sito prepara per voi. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, se volete vedere altri video come questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.